Quando stringerai tra le mani tua Buonasera, benvenuti a questa ennesima riunione degli Alcolisti Anonimi Buonasera Buonasera e benvenuti a tutti a questa puntata straordinaria di Sukamila Minchia Wewe Domenico, mi dai il guasto! No, non sono proprio giusto! Le maschere che un uomo può indossare ricordiamo l'argilla Fra le maschere che un uomo può indossare come non citare il bronzo